salve in questo nuovo video continuiamo a parlare di compressioni un altro tipo di compressione da tenere in considerazione è la profondità di colore cioè se il formato scelto o su cui ci troviamo a lavorare supporta la risoluzione di colore con cui vogliamo lavorare per esempio un'immagine jpeg e di conseguenza un video motion jpeg lavora ad una profondità di colore fissa di 8 bit per canale in tali casi lavorare a 10 bit per cercare una maggiore qualità non porta benefici evidenti al contrario un modo di guadagnare spazio è ridurre un'immagine da per esempio 16 bit fino a 8 bit il file risultante sarà grande la metà sempre riguarda la profondità di colore possiamo citare anche il sottocampionamento della crominanza che permette di risparmiare spazio sempre a costo della perdita di alcuni dati ovviamente il concetto alla base è che un'immagine può essere suddivisa nei suoi valori di luminanza y primo e due valori di crominanza chiamati cb e cr non vi spaventare per questo nuovo spazio colore y cb cr è qualcosa di concettualmente simile a y uv si dice che u e v o cb e cr sono canali del blu e del rosso sottratti dei valori di luminanza separiamo canali y cb cr in modo analogo a quanto abbiamo già visto per la separazione dei canali rgb i dati della luminanza è necessario conservarli totalmente perché la loro diminuzione distrugge niente che la stessa immagine pensate nell'immagine qui riprodotta di eliminare la parte in bianco e nero la y cosa resta riguardabile niente invece su due canali di crominanza possiamo fare delle approssimazioni che possono anche risultare accettabili campionando l'immagine con un pattern 4 4 4 che riguarda una sequenza di quattro pixel tutte le informazioni di crominanza dei pixel sono conservate non si ha quindi compressione e nemmeno diminuzione di spazio ma la qualità resta inalterata campionando l'immagine con un pattern 4 2 2 vengono cancellati valori di crominanza di alcuni pixel due ogni quattro per la precisione per ogni canale di crominanza e tali pixel eliminati e vengano rimpiazzati dal valore del pixel precedente avremo così due pixel su quattro che mantengono il proprio valore quello originale e gli altri due che assumono lo stesso valore del pixel che li precede il risultato è qualitativamente quasi indistinguibile dall'originale almeno nella maggior parte dei casi ottenendo in più un buon guadagno di spazio il numero 4 2 2 indica proprio che per quattro pixel i valori di luminanza y vengano conservati tutti e quattro i valori di luminanza cb vengano presi due su quattro e lo stesso per canali di luminanza cr usando invece un pattern 4 2 0 si eliminano le informazioni di due pixel su quattro nel canale cb e non si prende nessun valore per il canale cr per cui il guadagno di spazio sarà maggiore ma la qualità comincerà a risentirne sappiamo bene però che dipende molto dalla destinazione finale dei nostri video pattern ancora più drastici del 4 2 0 non li prenderò in considerazione ma comunque esistono da questi esempi sembra il pattern 4 2 0 sia troppo distruttivo nella pratica pensate però a quante quaterne di pixel ci sono in un qualsiasi frame e quindi in definitiva l'immagine risultante conserva ancora una buona quantità di tonalità sappiate è questo il pattern scelto per i film in dvd il risultato spesso è più che accettabile un generico modo di lavorare che mantiene una buona qualità è quello di usare un intermedio digitale di di in inglese ma io preferisco dirlo in italiano alcuni formati di esempio possono essere il dnx hd della avid o il prores della adobe per esempio il prores in 4 2 2 a 10 bit è un'opzione che si trova in nell'era o ancora meglio possiamo usare il codec ffv1 di tipo lossless sono formati compatibili stabili che garantiscano una buona velocità operativa sono solo leggermente compressi per non esagerare con le dimensioni dei file e si prestano a diventare dei master da cui ricavare alla bisogna i rendering che ci interessano nel bel sito che trovate in descrizione carlo macchiavello indica le proprietà di un intermedio digitale 1 un codec di altissima qualità e livello visivo 2 leggero da usare leggere e scrivere su qualunque programma 3 supportare profondità di colore anche maggiore del file di partenza per agevolare la correzione colore e preservare ogni tipo di informazione 4 permettere ricompressioni cioè generazioni multiple senza perdite apparenti oggigiorno la grande diffusione di premiere pro dell'adobe porta a non usare gli intermedi che pure sopporta benissimo ovviamente evitando così la scomodità della conversione in intermedi digitali dei filmati originali quasi sempre codificati in h264 h265 e in genere mediamente compressi ma secondo me è uno sbaglio lasciarsi andare a questo tipo di comodità perché sminuisce tutto il lavoro cioè il mantenimento della qualità che facciamo sui nostri filmati inoltre pesa di più in fase di editing apriamo una parentesi sugli intermedi digitali per chiarire cosa intendiamo precisamente il termine indica quei processi pellicola digitale pellicola detti ada analogico digitale analogico per indicare proprio la fase centrale cioè intermedia in cui si lavora sul file digitale vedremo un esempio fra poco per chiarire in un workflow tutto digitale ddd come quelli di cui stiamo parlando in questa serie di video uso un altro significato e lo intendo come un formato di lavorazione ad alta qualità che ci permette di salvare tutti i dati dei file sorgente che sia ad alto o a bassa qualità e che poi può essere renderizzato in file ad alta qualità master oppure in file più bassa qualità con destinazione che so youtube o dvd lo so è un abuso di un termine che ha un suo preciso significato ma non sono il solo oggigiorno sempre più spesso si usa il termine di come in lo intendo io grazie al predominio dei processi di ddd su quelli a d a ritornando a nostri formati di file visti anche nel video precedente le linee guide per scegliere il formato adatto e quindi sapere l'utilizzo finale del filmato prodotto se è un semplice video per youtube si può evitare l'intermedio digitale consapevole di appesantire il workflow dentro cinerella o programmi simili se vogliamo ottenere un file video per vari scopi allora bisogna preservare la qualità cioè ottenere un master e da questo derivare tutti i video che ci occorrono di volta in volta se abbiamo a che fare con produzioni cinematografiche sarete costretti ad usare uno specifico formato non compresso probabilmente il sineon dpx o open xr oppure un preciso intermedio digitale prores o dnxhd facciamo un esempio preso dal brickman che riguarda proprio una produzione cinematografica di tipo a d a e quindi non vale per scegliere digitalizziamo un negativo della pellicola di un film in questo caso il formato più usato è il dpx della kodak possiamo creare un file con profondità di colore a 16 bit per canale in modo da mantenere più informazioni possibili noi però useremo i 10 bit per avere a che fare con numeri più gestibili nel nostro esempio mettiamo di avere problemi di spazio o di hardware non adatto possiamo pensare di ridurre la risoluzione colore a 8 bit probabilmente ci sono tool che lo fanno automaticamente meglio ancora se offrono strumenti di modifica dei parametri ma noi lo faremo manualmente per scopo didattico il primo passo da compiere è la linearizzazione dello spazio colore visto il sineon è un formato logaritmico abbreviato in log lo vedremo meglio dopo questo si fa modificando il gamma per portare ad un valore esteticamente adatto infatti file log sono come sbiaditi con basso contrasto per non perdere dettagli nelle ombre e nelle alte luci con bassa nitidezza per non introdurre artefatti e rumori e con poca saturazione per non perdere dettagli di tonalità questo serve per mantenere più informazioni possibili perché il contrasto e lo sharpening in fase di ripresa mediano i valori di luminanza facendo perdere i valori originali e lo stesso vale per la crominanza kodak fornisce le lutte specifiche per il sineon una volta linearizzati e quindi estesa la gamma dinamica dobbiamo impostare il punto del bianco e del nero in questo passaggio è impossibile mantenere i dati del negativo con la riduzione da 10 bit a 8 bit poi la perdita è notevole e questo ci dovrebbe indurre a non usare una tale risoluzione di colore in casi come questi cioè in ambienti cinematografici ma noi lo faremo e lo spiegheremo in dettaglio l'intervallo dei valori a 10 bit che vanno da 0 a 1023 devono essere ridotti a 0 255 viene fatta una prima approssimazione impostando il punto del nero per esempio a 95 e il punto del bianco a 685 questo è un intervallo usato come default da kodak anche se nulla ci vieta di usarne un altro praticamente scartiamo molti valori del nero e molti di più del super bianco che tanto con gli 8 bit vengano clippati il passo finale è quello di mappare i valori di questo intervallo nel classico 0 255 e così potremo creare il nostro file finale a 8 bit con perdite diciamo accettabili se ci va bene possiamo comunque impostare diversamente i punti del bianco e del nero se abbiamo esigenze di favorire le ombre oppure le alte luci di sicuro però otterremo come il risultato molti neri pieni e molte luci di bianco puro lo sappiamo già con gli 8 bit non possiamo avere hdr per curiosità vi faccio notare che se l'immagine ha bisogno di correzioni varie per esempio un aumento di luminosità conviene farle prima della riduzione della profondità di colore infatti variando la luminosità nei 10 bit saremo ancora nell'intervallo 0 1023 e la conversione procederà come visto prima se invece facciamo prima la conversione e poi l'aumento di luminosità aumenteremo il numero di zone clippate al bianco puro oltre a quelle dovute alla conversione di per sé e schiarrimento di molti grigi scuri quindi avremo una brutta resa con artefatti che danno l'idea di artificiosità in fondo è proprio il concetto di intermedio ad alta qualità di cui abbiamo parlato prima cineon è un formato proprietario non sopportato da sinelera però esiste un altro formato che è diventato standard nelle produzioni cinematografiche per le sue caratteristiche avanzate parliamo di open e xr che è open source e quindi è stato implementato anche insieme l'rgg supera il cineon cioè il dpx perché di uso generale e non specificatamente orientato alla scansione di negativi del film ha una più estesa profondità di colore e una più facile gestione rispetto al formato kodak che richiede hardware specifico e cambia parametri a seconda del tipo di pellicola scansionata al momento infine è più efficiente e compatibile in realtà non ha bisogno di una profondità di colore visto che lavora in virgola mobile ma può scendere a un compromesso quantizzando a 16 bit sempre in virgola mobile è stato creato dalla ilm ilm inducer light and magic cioè quelli di guerre stellari tanto per capirci è stato creato per uso interno e poi reso open source per favorirne la diffusione se avete lavori di alto o altissimo livello è sicuramente il codice giusto da usare a meno che non siate obbligati a usare il dpx tenete presente però che tale formato non sopporta l'audio che deve essere gestito separatamente inoltre l'output è costituito da una sequenza di immagini fisse una per ogni frame proprio come si usa negli studi cinematografici ci interrompiamo qui e la prossimo video parleremo della gestione del colore